Che diavolo aspetti? Con questo slogan si è aperta ufficialmente ieri pomeriggio la campagna abbonamenti della Teramo Calcio per la stagione sportiva 2014-2015. Una campagna abbonamenti che proporrà prezzi vantaggiosi soprattutto per le famiglie e costi ridotti per i ragazzi dai 13 ai 16 anni, oltre ai vari pacchetti per ogni settore dello stadio Bonolis. Uno stadio che il presidente biancorosso Luciano Campitelli si aspetta pieno e caloroso per questo ritorno del diavolo nel campionato di prima divisione dopo 8 anni di assenza. Quest'anno credo che anche per una questione economica, ma credo che è una categoria molto molto importante, che dal 2007 il Teramo l'ha perso e quindi oggi siamo tornati. Se possiamo arrivare a una bella quota è un grosso vantaggio per la squadra, per la città stessa, perché poi se ne parla anche fuori città, perché per noi lo stadio Bonolis deve essere un catino pieno, per poter cercare anche di vincere qualche partita in più, perché sicuramente giocheremo con squadre che hanno disputato campionati di serie B e di serie A. La campagna abbonamenti dove noi oggi abbiamo visto siamo, credo, la squadra a livello di istinti e tribuna più popolare di tutte le altre campagne abbonamenti che fino adesso abbiamo visto. Deve essere una campagna abbonamenti oggi con una crisi mondiale a livello di tutti quanti, di chi può spendere qualcosa in più e quindi può spendere qualcosa in meno. Ed è anche una campagna abbonamenti legata alla famiglia, quindi ci sono dei bonus molto molto importanti. Io credo che si possa fare bene e che possiamo, a prescindere dalla campagna abbonamenti e tutto, ripartire da subito per poter fare un bellissimo campionato.